che c'è? che c'è? dimmi tutto, che c'è? oh che c'è? c'hai fame? eh sì, buongiorno, buongiorno da Romeo, buongiorno dalla vecchia, buongiorno da Pupo, poi chi c'è sta? buongiorno da Elsa, buongiorno da Tegra, e me ne manca una, eccola lì, buongiorno da Milù, chi è appena arrivata? che c'è Milù? che c'è? c'hai fame Milù? e questo è il nostro inizio giornale, ho capito, ho capito che c'avete fame, un attimino io vi devo far vedere perché voi dovreste anche cercare una casa, lo sai? guarda quanti siete, abbiamo la nostra famiglia De Rusci che cerca sempre una casa, poverini, allora ve li ripresento Romeo con Elsa vicino, questo è il nostro Pupo, lei è la nostra Tigra, questa è la vecchia invece, questa è vecchia, si chiama proprio vecchia perché lei è un pochettino vecchietta e gioca tanto con i gatti, guarda che roba, guarda che roba, guarda quanto si vogliono bene, ma che fai? lo pulisci, ma che fai pure la mammina? se una vecchia mammina, vabbè, tutto questo è il nostro inizio domenica mattina per l'Italia a quattro zampe Ollus, la voce di tanti pelosetti, del? che c'è? del? oh, chi lo dice? mondo c'ha ragione, l'ha detto Milù, amore mio ciao ciao ciao